Mi raccomando se non vuoi perderti nessun video su questo canale ti consiglio di premere la campanella in alto a destra per ricevere ogni giorno i feed dei video che usciranno sul canale. Buona visione! Signore e signori, allenatrici e allenatori, ricchi e tutto il contrario di poveri, ecco voi, iPhone X! Esatto, X, l'incognita il cui valore corrisponde al numero di bestemmie che volete tirare vedendoli in cima alle tendenze del momento, nonché ai like che lascerete al video, ma passiamo alle caratteristiche tecniche. Questo Pokémon presenta il tipo elettro-acciaio, come Magnemite, solo che a differenza del temutissimo iPhone X, le calamite costano 2€ e sono pure carine, ma insomma, lo stipendio del vostro nucleo familiare che differenza sarà mai? Dai, su! Le capacità di questo Pokémon vi lasceranno sicuramente senza fiato, nonché senza un tetto, ma non temete, le sue caratteristiche valgono sicuramente il prezzo. Di sicuro lo strumento Moneta Muleto è una di queste, grazie a questa implementazione infatti ad ogni battaglia vinta, iPhone X sottrarrà all'allenatore una somma pari allo stipendio del padre. Incredibile, vero? Certo! Quasi come la sua natura! Sicura! Già, sicura come l'inutilità delle feature aggiunte e come non citare ovviamente tra queste il riconoscimento facciale. Ecco perché le due mose di iPhone X, localizza ed individua, sono punto cardine di questo Pokémon che gli permetterà di essere totalmente inutile, ridicolo e sbloccabile tramite la prima foto reperibile. Geniale, non credete? Ma mai quanto le altre mose che questo fantomatico Pokémon ha. Giorno di paga la sua mossa peculiare, gli permette di ottenere costantemente soldi, ovviamente sottratti alla borsa del malcapitato che lo possiede, mentre come stub il Pokémon possiede scarica, come la sua batteria. Infine, passiamo alle statistiche. Numeri da capogiro che mostrano come iPhone X meriti di essere il Pokémon migliore della terra. Basti pensare che i suoi 100 PS base, esattamente come gli euro rimasti in cassaforte a vostro padre, gli permettano di compensare le sue esigue difese. Solo due punti base in difesa speciale, come due saranno le volte che vi cadrà prima di ritrovarlo diviso in 40 Orphix contenenti le anime dei bambini che vi hanno lavorato. Ammirevoli inoltre le statistiche di attacco. 130 punti base per un Pokémon che, per dimensioni, ricorda molto un UC struttura tecnologico, e che se usato bene potrebbe schiacciare le folle di pazzi che sono in coda per acquistarlo. Nonché ovviamente la velocità, con 100 di punti base. 100 come i giorni massimi che contraddistingueranno la sua misera popolarità. Beh, che dire, un Pokémon incredibile che sicuramente varrà gli sforzi che farete per ottenerlo. Sentiamo però che cosa ne pensa chi ha già ottenuto questa splendida creatura. Gennaro, sei in collegamento con noi. Buongiorno, buongiorno, sì, eccomi. Ho venduto il mio Rattata per ottenere questo fantastico Pokémon e devo dire che sono soddisfatto moltissimo. Il riconoscimento facciale funziona un po' male perché ogni bullo che incontro me lo sbloccano, però in effetti c'è da dire che con questo Pokémon sono riuscito a coniugare le due cose che più amavo, ossia le battaglie Pokémon e le chiamate. Finalmente posso scassare la minchia quadruplamente a tutti ed è fantastico, signori. Compratelo perché è davvero bello. Ora sono qui nel lettino dell'ospedale perché ho appena fatto il trapianto di rene, visto che l'avevo venduto. Però sicuramente ne vale la pena, ne vale la pena. E nulla, adesso torno a chiamare Gold che mi sta aspettando. Devo assolutamente dirgli che ho venduto Rattata per ottenere il mitico iPhone X. Grazie mille a tutti quanti per l'ascolto. Grazie a te Gennaro, la tua testimonianza, spero abbia convinto tutti quanti a fare la scelta giusta. Ora vi lascio con la descrizione del Pokédex che sicuramente troverete molto utile. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.